Un anno di cui fare il bilancio guardando al futuro, ma prima di parlare del 2023, un minuto di raccoglimento chiesto dal sindaco Viviana Fusaro per ricordare Vanessa Ballano. 2023 ricordato per il successo sul piano del risparmio energetico, per l'inizio della ristrutturazione delle ex caserme Zanettelli, che sono solo uno degli 85 cantieri aperti, per la sistemazione di alcuni parchi e la manutenzione dei cimiteri, per la buona riuscita di manifestazioni quali il palio, il giro delle mura, la maratona di lettura, la mostra dell'artigianato. Un 2023 salutato anche con l'irruzione a sorpresa per gli auguri di fine anno da parte del coordinatore Veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. E poi, guardando al 2024, i tanti progetti, tra cui le commemorazioni per i 140 anni dalla nascita dello scultore Carlo Rizzarda e il 400 dello storico Antonio Cambruzzi, e poi ancora la messa in onda da parte della RAI, della Tiction Prima di Noi, le cui riprese hanno riportato a Feltre agli inizi del Novecento. Guardi, è stato un anno ricco di soddisfazioni, ricchissimo di tante, di tante opere che siamo riusciti a portare avanti, impegnativo, molto impegnativo, ma che ci ha dato anche dei risultati, insomma, rispetto al tempo, anche addirittura quasi che non pensavamo di poter avere. Il 2024 sarà l'anno in cui sparisce la gru? Il 2024, guardi, è un anno durante il quale ci auguriamo non solo sparisca la gru, ma che speriamo possa vedere chiusi anche tanti altri cantieri che abbiamo ancora aperti.